C'è l'iniziativa che vuole finalizzare l'ora della nostra biblioteca provinciale. Noi abbiamo una biblioteca bellissima a Foggia, la biblioteca per i ragazzi, una palazzina su tre piani, che ci invidiano in tutta Italia e che purtroppo adesso potrebbe rimanere chiusa al pomeriggio. Quindi una cosa che ci sembra assurda, perché una biblioteca non può essere chiusa quando i ragazzini, i ragazzi, i ragazzi sono libri del mare al pomeriggio e quindi Federica è diventata anche un po' un simbolo della lotta su cui Federica per la nostra biblioteca, poi ho dei fogli per accogliere ai figli, se non potete fumare riscolti. E poi ci piace anche segnalare i libri belli di altri casi pubblici, libri che trattano i temi che stiamo trattando nello specifico in questo numero di giornale, ad esempio Regine della Scienza, di Amalia Caratozzaro e Sirena Mancret, che sono due autrici, attrice e mostratrice, che ci regalano in un numero uno splendido ritratto, sia escritivo che figurativo, di bellissime figure del XX secolo. Nel nostro ultimo numero sono tornata un po' indietro per parlare di Isabella Treini, un'altra donna di cui si è perso il ricordo, una poetessa e attrice del 1600, e in quello devo dire che eravamo avanti in Italia, perché nel 1600 Isabella Andreini passava da un parco scenico all'altro, che è un grande successo in Italia e in Francia, mentre in Inghilterra le donne non potevano recitare, le parti femminili erano interpretate dagli uomini. E poi abbiamo altre recensioni, in questo caso un bel giornale della Naziana, in altri casi un bebelito dello stampatello, che trattano anche ugualmente i temi dei pregiudizi di genere, e poi abbiamo l'inglese anche. Sì, l'inglese, perché io ho insegnato per tanti anni inglese, e quindi mi piace mettere qualcosa in inglese ai bambini, e poi perché dovevamo avere la pagina degli esteri.